Spettatori di Voce Libera Web, oggi siamo con Gabriele Dell'Otto, un nostro caro illustratore italiano. Sa che anche io sono un aspirante fumettista e illustratore? Come ti chiami? Mi chiamo Andrea. Andrea, piacere. Ciao a tutti, benvenuti ad Etna Comics 2022. Dimmi tutto. Volevo chiederle, cos'è che è la spinta a iniziare a disegnare? Cioè, poi quanti anni aveva? Allora, c'è una leggenda metropolitana che vuole, così, io la racconto come la raccontava la mia mamma, cioè che io le prime due parole che ho detto, carta e penna, invece che papà e mamma. Quindi diciamo che io da che ho memoria, disegno. E questa è l'unica cosa che il Padre Eterno mi ha dato di talento, quindi secondo me ha detto è meglio che gli facciamo capire che sa fare questo, se no poi sbaglia strada. Capisco, capisco. Lei, cioè, hai disegnato pure questa copertina per la decima edizione dell'Etna Comics? È molto bella, secondo me. Cioè, in che senso secondo lei Catania è risorta come una fenice? Eh beh, io, diciamo, la storia di Catania la conoscevo poco. Il momento in cui Antonio, che ormai è un caro amico da tanti anni, Antonio Mannino, il direttore, mi ha contattato e mi ha raccontato la storia che Catania è stata distrutta per nove volte. E è sempre risorta. E quindi, diciamo, c'era questa idea quest'anno di dare al pubblico Etna Comics, finalmente, diciamo, ritornato in presenza, di dare appunto questa locandina che ispirasse anche tutta la popolazione, non solo i giovani siciliani, appunto di ritornare finalmente a condividere una passione, che per noi è questa, però anche per la vita e per le relazioni. Ah, ok. Poi, le ultime due domande. Qual è il suo personaggio dei fumetti preferito? Il mio personalmente è Frank Castle, H. The Punisher. No, il mio invece è The Batman. Ah, bello. Sì, uomo di cultura. Ok. Per concludere la nostra intervista, qual è un consiglio che dà agli altri aspiranti fumettisti che ci stanno seguendo tipo me? L'abnegazione e la fatica. Anche se ci raccontano che le cose vanno fatte veloci, le cose veloci non possono essere fatte bene. Ci vuole un tempo per ogni cosa, ci vuole un po' di fatica e molta, molta abnegazione. Ok, anche io la penso così. Beh, qui per il servizio è tutto, grazie ancora per l'intervista, Gabriele. Grazie a voi, ciao.